Io non voglio fare una campagna elettorale sulle polemiche, non voglio fare una campagna elettorale sui veleni, ne butteranno tanto addosso a noi in questo momento e nei prossimi giorni, ma io vi assicuro non risponderò con polemiche perché posso rispondere con 5 anni di fatti, 5 anni di amministrazione in cui non mi sono tirato indietro a niente. In cui, lo dico anche con emozione, ho allevato tempo alla mia famiglia. Come sono arrivato a questa candidatura? Una candidatura che penso, grazie anche agli amici, ma comunque anche a quelli che oggi non sono qui con me, che penso di essermi guadagnato sul campo, con l'impegno che tutti i giorni ho messo. Oggi ci troviamo ad avere un panorama frammentato, 5 liste, di cui 3 competitive, 2 che non hanno nessuna speranza, quindi voglio subito dire che non disperdiamo voti. Non disperdiamo voti su quelle liste che non potranno molto probabilmente neanche rappresentare un consigliere. Tante opere sono state fatte, io sono stato assessore a lavori pubblici. Non vi voglio annoiare, però ne voglio elencare soltanto qualcuna, me lo permettete. Ad esempio abbiamo operato sulle sponde dell'I, in sicurezza una sponda del fiume, dove case dietro la parte di Ceprano stavano crollando, sprofondando verso gli argini. Abbiamo prodotto acquedotte e fognature in varie località. Abbiamo portato avanti la bonifica dell'ex Europress. Abbiamo costruito i nuovi loculi cimiteriali, che in questi giorni sono al termine. Abbiamo costruito un nuovo campo sportivo, il palasport, anzi ultimato il palasport. Queste sono opere pubbliche. Quando persone a cui ho dato fiducia vanno vendendosi l'operato di altri, valutiamo le pene queste cose qui. La scuola media, che dal luogo guerra non era stata mai sistemata. La scuola elementare dello Scalo, l'asilo nido Pollicino, il parcheggio della stazione, il parco pubblico di Ceprano Scalo, il palazzo Vespignani, dove abbiamo terminato il primo lotto ma siamo pronti a partire con il secondo lotto. Ci sono poi tanti cantini aperti, lo so che vi sto annoiando, però quando dopo l'opposizione o persone vi verranno a dire questa amministrazione non ha fatto niente, questa amministrazione invece ha lavorato, ha lavorato, ha lavorato sodo e ha prodotto questi risultati, che sono sotto gli occhi di tutti. pubbliche illuminazioni che si stanno realizzando in questi giorni, l'innesto e la messa in sicurezza di Campo Sant'Angelo, strade in varie località che si stanno realizzando anch'esse in questi giorni, un parco sul fiume Liri, dove sono ripresi i lavori proprio ieri, vero Assessore di Palma, è un progetto che abbiamo condiviso interamente insieme, la messa in sicurezza del Pivio Casidina, perché si tratta di un punto molto pericoloso della città di Cebrano, il polo artigianale, dove stiamo andando finalmente in gara d'appalto e nei prossimi giorni metteremo anche la prima pietra con questa amministrazione, una opera importante per le nostre imprese, un polo che creerà le condizioni vantaggiose per tutti quegli operatori del settore per poter essere competitivi e anche per la propria obbligazione che avrà, perché questo polo artigianale verrà ubicato nei pressi del casello autostradale, questo polo artigianale darà occasione a tanti cittadini di poter operare al meglio. Il nostro centro storico dovrà diventare il fiore all'occhiello della città. Con la nostra vittoria sono fermamente convinto di voler dare una continuità a questo centro storico ed a questo importante recupero. Le periferie che finalmente dovranno essere vivibili per tutti, stiamo facendo già degli sforzi, abbiamo proprio sabato inaugurato un altro campo di calcetto sul quartiere di Montecitorio e sulle case popolari, stiamo realizzando anche una pubblica illuminazione e stiamo realizzando un nuovo piazzale. Quindi dobbiamo cominciare a pensare più in grande, cominciare a pensare anche da Ceprano città europea. Ceprano città europea perché è anche attraverso l'Europa che riusciamo ad avere quei finanziamenti giusti, quei finanziamenti importanti come è già successo per il Palazzo Vespignani. Quindi io rinnovando il mio ringraziamento perché avremo veramente tante occasioni per risentirci, perché in questo mese penso dovrete stufarvi come cittadini cebranesi di sentirci, di ascoltarci perché verremo nelle vostre case, verremo nei nostri quartieri, non ci fermeremo un secondo perché dovremo essere motivatissimi perché penso che questa sia la squadra migliore per portare avanti la città di Ceprano e proiettarla verso il futuro. Quindi io mi avvio a concludere ringraziando tutti i miei validi collaboratori, tutti i collaboratori del comitato a partire da Marisa, Marcello, Luca, Alessandro, tutti quanti. Mente di cuore a tutti quanti, ragazzi datevi da fare, diamoci da fare, tutti quanti insieme per Ceprano. Grazie.